Si riattivi subito il tavolo ministeriale per dare un futuro certo a centinaia di lavoratori seri e qualificati. E' la richiesta della Will che fa seguito ad un coro unanime di politica e sindacati levatosi dopo la comunicazione dell'Onewell circa la chiusura a primavera del prossimo anno della stabilimento in Val di Sangro. Una fabbrica gioiello che direttamente dà lavoro a 420 persone ma nella cui orbita gravitano almeno un altro centinaio di addetti dell'indotto tra logistica e componentistica. Numeri importanti che danno la dimensione del danno economico e sociale che si sta per abbattere sul territorio abruzzese. La Onewell attraverso i backup effettuati ad Atessa ha clonato la fabbrica spostandola in Slovacchia dove il costo del lavoro è minore e dove riceverà degli incentivi per l'avvio delle attività. Una pratica stigmatizzata da Rifondazione Comunista che punta il dito contro la delocalizzazione ricordando i soldi pubblici ricevuti in Italia. Oltre 4,5 miliardi di lire nel 1999. Una serie di finanziamenti per un ammontare complessivo di 4,5 milioni di euro, 1,8 milioni di euro per il credito d'imposte, un altro miliardo di euro di esenzioni fiscali beneficiate dal 92 al 2002. Nel frattempo gli operai sono tornati al lavoro e la fabbrica si sta riattivando progressivamente. La decisione di sospendere lo sciopero, dicono i rappresentanti dei lavoratori, non ferma la lotta. Primo passo l'incontro del 21 novembre a Mise. Non c'è niente di scontato, il percorso sarà lungo, in salita e non sicuro perché ci potrebbero essere seri problemi. Anche perché noi abbiamo una data, il 2 aprile, dove scadono gli ammortizzatori sociali e se non ci dovessero essere proroghe avremo seri problemi per gestire la situazione. Tante famiglie in sofferenza, tante persone che non credono ancora oggi che una multinazionale che non ha né problemi economici di bilancio, né problemi produttivi in termini di commesse, né in termini di qualità perché rappresentano un'eccellenza per quanto riguarda la produzione dei tour, abbia deciso di chiudere così. Grazie. Grazie.